Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai, eh? Cosa c'è nella padella? Mmm, che profumino! Fai saggiare un pezzettino? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Sono definite stabili le condizioni dello sciatore di 44 anni, residente a Tarvisio, travolto ieri da una valanga sul Monte Lussari. L'uomo è tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine, dove è stato elitrasportato nella mattinata. L'uomo era stato travolto dalla valanga mentre faceva free reading a poca distanza dagli impianti di risalita della Misconsa di Merza, a quota 1600 metri. Dotato di apparecchio ricetrasmittente, Arvae è stato prontamente estratto dal cumulo di neve e dai tecnici del soccorso alpino di Cave del Predil. La valanga, che si è staccata, era di notevoli dimensioni, con uno spessore della neve oscillante tra il metro e metro e venti, su un pendio ghiacciato che ha fatto da scorrimento. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Udine hanno arrestato un romeno di 30 anni che viaggiava a bordo di un treno regionale partito da Trieste. L'uomo era stato espulso dal territorio nazionale con un decreto di allontanamento emesso dall'ufficio di sorveglianza per i circondari dei tribunali di Vercelli, Ivrea e Biella. Il trentenne era già stato rintracciato e allontanato dal territorio nazionale, ma aveva fatto nuovamente rientro in Italia. Il Tribunale di Udine lo ha giudicato per direttissima, convalidando la sua espulsione. Il romeno è stato quindi nuovamente allontanato dal nostro paese. Un mediatore culturale afgano è finito il pronto soccorso a Udine, sabato sera dopo essere stato aggredito da due connazionali, entrambi ospiti del centro di prima accoglienza ricavato nell'ex caserma Cavarzerani. Il mediatore, secondo quanto emerso da una prima ricostruzione fornita dai carabinieri, era intervenuto per sedare una rissa scoppiata tra due richiedenti asilo. Anziché placarsi all'intervento del conciliatore, hanno iniziato a scagliarsi contro di lui, accusandolo di essere pakistano. L'uomo è stato circondato e colpito a più riprese, con calci e pugna le gambe e la testa. È stato chiesto l'intervento dei carabinieri, giunti nella struttura in via Cividale, supportati dai colleghi del radiomobile. I militari dell'arma hanno sedato non senza difficoltà la rissa scoppiata all'interno dell'ex caserma e identificato, anche in questo non in maniera agevole, i due migranti che sono stati denunciati per lesioni e per la resistenza a fornire alle proprie generalità le forze dell'ordine. Il mediatore, ferito, è stato portato al pronto soccorso. I sanitari della struttura medica hanno riscontrato politraumi alla testa e gli arti inferiori, giudicati guaribili in tre giorni. Vigili del fuoco impegnati nella notte per spegnere le fiamme alla concessionaria 2M di Poincico di Zoppola, lungo la statale 13 Pontebana. Un'auto, per causa ancora al vaglio dei carabinieri, ha preso fuoco poco dopo le 23 nel parcheggio esterno dell'attività. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Pordenone ha consentito di evitare che il rogo si estendesse anche ad altre vetture posteggiate, mentre il mezzo è stato completamente distrutto. I finanziari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza, su incarico della locale procura, hanno eseguito un sequestro preventivo nei confronti della Banca Popolare di Vicenza per un importo di 106 milioni di euro. L'operazione rientra nell'ambito dell'indagine penale sulle responsabilità individuate nella gestione dell'istituto in fase di udienza preliminare. Il sequestro era stato disposto dal GIP del Tribunale Veneto in merito al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob in occasione dell'operazione di aumento di capitale compiuta dalla Banca nel 2014. I soldi erano stati depositati su un conto corrente acceso in una filiale milanese di una banca e intestato all'istituto Vicentino, attualmente liquidazione coatta amministrativa. La somma deriverebbe dalla liquidazione di asset rimasti nel patrimonio della banca. Nella mattinata di ieri il proprietario di un'abitazione della zona di via Cividina a Martignacco ha denunciato ai carabinieri della compagnia di Udina il furto spiegando che i ladei erano entrati nella villetta forzando una porta al piano terra. Dopo aver messo a soquado le stanze si sono impossessati di monili in oro, campi di abbigliamento e diverse borsette di marca per un valore complessivo che si gira intorno ai 20-25 mila euro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto il furto potrebbe essersi consumato tra le 18.30 e le 20.30 di sabato. Indagini in corso. Un cittadino albanese di 29 anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri della compagnia di Udina dopo essersi scagliato contro gli operatori sanitari del pronto soccorso che stavano curando la moglie. La donna si era recata in ospedale a causa delle percorse ricevute dal marito. L'uomo ha dato in escandescenza quando i sanitari quando l'hanno invitato a uscire dalla sala. Un'operatrice socio-sanitaria ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Il 29enne si è quindi dato la fuga. È stato rintracciato poco dopo dai carabinieri nella sua abitazione dove è stato trovato in possesso di 25 grammi di cocaina. È accusato di lesione e detenzione di sostanze stupefacenti. Si è raggiunto in studio il presidente del CAF. Allora Salvatore Benigno per parlare di questa iniziativa, il bonus. Che cosa consiste? Viviamo tutti come sappiamo in un momento di difficoltà per cui finalmente anche l'autority nazionale che è l'ente regolatore per tutto il sistema idrico integrato e non solo quello. Quest'anno, cioè Valeria del 2018, ha riconosciuto la possibilità agli enti gestori di creare il cosiddetto bonus idrico sociale. Cioè nell'ambito del principio di universalità di accesso all'utilizzo di un bene primario quale è l'acqua la possibilità per determinate categorie di cittadini di avere un sgravio di quelli che sono i costi. Ovviamente bisogna rientrare in alcuni parametri cioè avere un reddito di GEE all'incirca di circa 8.000 euro e estendibile a 20.000 euro anche nel caso di famiglie numerose. Cosa è? Banalmente una riduzione di quella che il sistema tarifario ha applicato per l'utilizzo e il consumo dell'acqua. Ricordiamo quanti comuni copre il servizio del CAF? Il CAF ormai è la public company più importante a livello regionale. Siamo 127 comuni all'incirca, quasi tutta la provincia di Udine con una diversità di territorio che va dalla costa quindi dall'Ignano Sabbiadoro fino alle estreme propagande della nostra provincia quindi a Tarvisio. Difficoltà diverse, territori molto complessi e comunque l'attività è prontamente seguita. Abbiamo avuto da quest'anno la possibilità anche di fare un primo bilancio sull'acquisizione dell'area montana che dal primo gennaio 2017 di competenza di CAF. Devo dire che sono molto soddisfatto che abbiamo raggiunto sia una omogeneità di quella che è l'azione di CAF in quel territorio sia anche una serie di investimenti molto importanti. Li ricordo velocemente, circa 2 milioni di euro investiti nel 2017 abbiamo un budget di 2 milioni e mezzo di euro per quanto riguarda il 2018 e abbiamo avuto anche l'ingresso di nuovi comuni per quanto riguarda il servizio idrico integrato e opere pubbliche che hanno risolto alcune problematiche lì ferme da molto tempo. Senta, tra questi entrerà anche Sappada presto con il CAF oppure Sappada rimarrà con l'attuale gestore? Ma adesso c'è tutta una valutazione che non riguarda solo CAF ma anche altri utility, per esempio la NET per fare un esempio e quindi Sappada ha fatto il passaggio nella nostra regione ha avuto l'ingresso nelle UTI, nell'UTI della Cania Giocoforza dovrà fare delle valutazioni e su questo magari qualche dialogo anche a livello informale speriamo di poterlo creare da qui a poco tempo per quanto riguarda anche il discorso ciclo idrico integrato dell'acqua che è quella della nostra competenza. Un pari stretto quello ottenuto ieri pomeriggio dall'Udinese nel match casalingo contro il Milan un tempo ciascuno alla fine i rossoneri ieri in completo bianco in vantaggio al nono minuto con un bolide dai 30 metri di suso finito nel 7 imparabile per Bizzarri Milan fino alla mezz'ora quando la partita l'ha presa in mano l'Udinese andando più volte vicino al pareggio prima del riposo secondo tempo di netta marca friulana con il vantaggio di giocare in superiorità numerica per quasi mezz'ora grazie al doppio giallo beccato da Calabria sfruttato però solo a metà il pareggio arriva al 76esimo Lasagna crossa da destra Bonucci devia la traiettoria del pallone che va poi a sbattere sulla testa di Donna Ruma e termina in rete l'assalto finale alla porta milanista non porta i frutti sperati con il gol vittoria sfiorato ma non realizzato comunque un passo avanti rispetto alla vittoria di Marassi contro il Genoa che fa sperare per l'ultima parte del campionato fuori dalla zona retrocessione si spera nella buona vena dei migliori magari per tentare un clamoroso aggancio ai preliminari di Europa League Ma perché? Come mai? Ma perché? in cucina non ci entro mai eh? Cosa c'è nella padella? mmm che profumino fai assaggiare un pezzettino? ma che bontà ma che bontà ma che cos'è questa robina qua ma che bontà ma che bontà